Parlando con lo chef Gianluca Firetto della bottiglieria, mi sono talmente incuriosita che ho deciso di venire qui a dare un'occhiata. E chi mi trovo? Una coppia di splendidi ragazzi. Ciao ragazzi! Allora, ma mi sa che ho interrotto qualcosa. Forse una cena romantica? Sì, direi. Ah, bene. Allora vi rubo solo qualche minuto. Vorrei chiedere, e lo chiedo al nostro fidanzato, questa cena romantica a che pro? Ero a cena con la mia ragazza per chiederla giusto appunto di sposarmi. Anzi, visto che siamo qua, volevo approfittarmene davanti alle telecamere per chiederle di sposarmi. Vuoi sposarlo? Perché hai scelto di venire proprio qui, per questa bellissima proposta di matrimonio? Perché è un posto speciale, è una scenografia antica, è bello, unisce le tradizioni. E poi mi piaceva e basta. Beh, ricordiamo agli amici che ci stanno seguendo da casa che la bottiglieria è davvero un posto esclusivo del Castello Chiaramonte, dove è possibile organizzare una cena romantica soltanto a due, ma dove è anche possibile venire in compagnia di altre persone. La capienza massima della sala è di 25 persone.